Ciao, this is Balcony TV Messina with us Paul Jenkins, hello! Ciao! playing on the water the decisions are few and as a drifter flies the choice is yours I tell you I may be there I tell you how I need you I can barely walk I can only run to you and I come crashing through the door just to tell you how much I love you and all the water is poisoned now and all the trees they hang dying all the earth is empty all thought for you I wait upon my knees when the night slowly fades and I wake to this day you'll come crashing through the door just to tell me how much you love me and I remember how we said hello and I remember how we said goodbye I remember everything I remember everything I remember everything how we said goodbye È una canzone che ho spiegato in ultimo, per iniziare i miei seti. Ho scritto con mio amore, Larry, sì. È una canzone che mi piace molto, che abbiamo scritto insieme. Mi ha portato buoni ricordi, buoni tempi e buoni sentimenti per iniziare un set. E ho pensato anche che siamo in acqua qui, vicino Messina, tra Italia e Sicilia, e mi sembra che sia fitta. E tu, i vostri origini sono da Sicilia? Sì, mia madre è Catanese, da Sicilia. E ho vivuto qui per due anni, quando ero vecchio. E quindi, sì, i miei figli e tutti, la famiglia, vivono qui. Quindi, al final di questa tour, potete incontrare la tua famiglia? Sì, giochiamo Catania domani, quindi vedo loro domani. E poi, al final, mi resta per due giorni dopo, e ho spiegato il tempo con loro. Diciamoci sui nuovi progetti in musica. Il UConn DREAMS è un nuovo thing che ho iniziato. Ho iniziato prima con il mio amore, Larry Yess, e me scrivendo alcuni songs. E, anche, ho lavorato con altre persone in Portland. Quindi ho iniziato a chiamare tutto il UConn DREAMS, mentre ero in Portland, Oregon. Quindi, ho scritto prima questo EP che ho, e poi un nuovo album con i bandi e altri miei amici. E poi, che ho iniziato, 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 a fare un album che sarà Paul Jenkins, che sono un po' di le cani che faccio più quieta, live, e cose. E quindi, come possiamo seguire te? On Facebook, I have that. And then also, so Paul Jenkins on Facebook. And then also Bandcamp, I'm selling the UConn DREAMS as well. And then eventually, I'm gonna make more of a website and stuff, but I've just been waiting, so. Ok, thank you again. Grazie, molto grazie. Ciao. Ciao. Back in ETV! Ciao.